Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peperarca Collectibles con i consigli d'appuntamento con le news della settimana. Prima di iniziare voglio ricordarvi che su mycomics.it ci sono tutti i fumetti scontati del 5%. Con 35 euro di spesa e il codice sconto PEPPERGIFT potete ottenere anche un regalo, quindi un ulteriore vantaggio da mycomics.it. Non trovate ovviamente solo fumetti ma anche Action Figures, Funko Pop, Gadget, di tutto e di più, quindi approfittatele. Veniamo ora a noi con le news per quanto riguarda le Action Figures. Non è stata una settimana molto ricca di grandi novità. Prima fra tutte l'unico annuncio da parte di Hot Toys, ovvero questo Black Manta. Il cattivone, il villain di Aquaman 2, cioè Aquaman and the Last Kingdom, l'ultimo film della DC. Ed eccolo qui, eccolo qui, Hot Toys ci ha dato la sua interpretazione di Black Manta. Con un design che a me non fa impazzire. Hot Toys sicuramente è molto fedele al film, senza ombra di dubbio, ma non mi fa impazzire proprio il design di Black Manta. È abbastanza simile, diciamo, molto somigliante alla versione dei fumetti, ma non mi piace particolarmente. Poi fatemi sapere invece voi cosa ne pensate. Per cui ho sentito diversi pareri contrastanti. Qualcuno che lo odia, qualcuno che invece è stato molto contento di questo annuncio da parte di Hot Toys. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Allora, intanto andiamo ad analizzarlo. Ho visto intanto la possibilità di cambiare gli occhi. Quindi da degli occhi, diciamo, puliti, se così vogliamo chiamarli, una versione clean, a quelli con i danni da battaglia. Quindi questa cosa, eccoli qui. Questa cosa è molto carina, comunque ci dà la possibilità, un minimo di personalizzazione, scusate. Quello che volevo analizzare meglio, ovviamente c'è anche la funzione LED, sia per gli occhi, sia per il jetpack. E adesso andiamo a vedere forse anche il tridente, o ce ne sono due, adesso vediamo meglio. Perché qui lo vediamo in una colorazione verde, verdastra, e qui invece è nera e si possono, anche si può dividere in due parti. Quello che mi chiedo è il materiale della tuta, perché da qui sembra una pelle. Spero non sia così, per una questione di deterioramento nel corso del tempo. Credo che sarà una tuta molto simile a quella che è il costume di Spider-Man, di quella sorta di plastica gommosa. Non so dire che il materiale sia. Però, ecco, dalle fibre, insomma, dal tipo di tessuto che vedo, sembra belle, ma non credo comunque. Poi, per quanto riguarda il resto, mi sorprende di non aver visto nessun escult. Non ho ancora visto il film, ragazzi, quindi non posso giudicare, ma sono praticamente certo che si veda nel film l'attore che interpreta Black Manta. Un ragazzo di colore, tra l'altro molto bravo, però non vedo nessun escult. Quindi, non so che cosa abbia in mente Hot Toys, la questione di diritti, può darsi, però comunque è una parte che manca e penso che non tutti saranno contenti. A me come design non piace per niente, ve lo dico tranquillamente, mi sembra uno Stewie dei Griffin, però è molto simile a quello del fumetto, quindi proprio è il personaggio che è così, quindi niente da dire, insomma. Andiamo a leggere meglio i dettagli insieme. Come al solito, si tratta di un movie masterpiece 739, scusate, altezza 34 cm con 30 punti di snodo. Data di uscita, approssimativamente, primo, secondo, quarto del 2025, quindi fa un anno abbondante, almeno per il mercato orientale. Poi sappiamo che per qui, per l'Italia, per l'Europa in generale, bisogna aspettare un po'. Poi abbiamo quindi la somiglianza con il Black Manta di Arkham in The Lost Kingdom, ci sono quindi, c'è la possibilità di accendere i led, che sono per gli occhi. Per il momento c'è scritto solo gli occhi, però abbiamo visto anche il jetpack, non so, il tridente, come vi dicevo prima. Ok, una parola, varie paia di mani, sono sei pezzi. Il costume, vediamo un po' se c'è scritto qualcosa. Tailored Black Manta Sword with Silver Color of the Armor Plate. Quindi non dice assolutamente niente riguardo il materiale utilizzato, ma dovrebbe essere quello che vi ho detto io. Abbiamo quindi un tridente che è divisibile, diciamo, separabile in due parti, e un altro tridente. Quindi vi confermo, non c'è la possibilità di accendere il tridente con i led, ma sono due tridenti splittabili, quindi divisibili. Uno nero e uno verde, cioè di un verde traslucido, trasparente. Poi abbiamo un orologio e la basetta con il nome del personaggio. Vi ripeto ragazzi, io ho sentito diverse persone, alcuni lo amano, alcuni lo odiano, quindi fatemi sapere voi cosa intendete fare con questo Aquaman, se pensate di preordinarlo o meno, perché io ovviamente passerò. Magari rimango in attesa di Aquaman, questo mi sembra un chiaro messaggio da parte di Hot Toys, cioè, oh, vedete che stiamo facendo i personaggi di Aquaman. Cominciamo dal cattivone, prima o poi arriverà anche lui, Gelon Momoa. A quel punto non lo so, però per questa volta passerò ragazzi. Ora, veniamo alla news che più mi tocca da vicino, che più mi interessa, che è finalmente l'annuncio, cioè l'annuncio era già stato fatto, ma hanno rivelato le fattezze di Kisame. Kisame direttamente da Naruto Shippuden da parte di Rocket Toys. Ragazzi, io sono molto in crisi, già ve l'avevo detto nello scorso episodio, Rocket Toys ha fatto questa wave di Naruto, in scala 1 a 6, con vestiti in tessuto, molto simile alle Hot Toys, se vogliamo essere pratici, diciamo. Non amo tantissimo quando vengono fatti delle 1 a 6 per gli anime, se non sono fatte veramente, veramente bene, perché trovo più adatti della Chumpiwur di una scala inferiore per gli anime. Vedi SHP Wars, vedi tante altre marche, ma in questo caso sembrano essere stati fatti dei lavori eccellenti. Guardate per esempio questo Kisame, ora ci sarà del Photoshop, può darsi, ma è una figata, per chi di voi è fan di Naruto, sono veramente stupendi. Abbiamo visto già Inata nello scorso video, e tempo fa sono usciti Madara, Kakashi e Itachi. E abbiamo già visto come sono stati aggiunti, sono stati annunciati anche Sasori, oddio raga, oddio mi sta sfuggendo, e il biondo, vabbè, Deidara, Deidara Sasori. E anche Tsunade è stata annunciata, quindi si pronuncia una wave stupenda, bisognerebbe recuperare quelli già usciti, che sono ovviamente introvabili, Kakashi, Itachi e Madara, però sono molto indeciso sul da farsi, quindi aiutatemi anche voi, fatemi sapere se, per di tutto, vi interesserebbe vederli sul canale, perché comunque si parla di figure che usciranno l'anno prossimo, a meno che non riesca a recuperare quelli vecchi. E soprattutto, se secondo voi è una buona scelta, una buona decisione, è quella di cominciare a collezionare questa wave di Rocket Toys, che secondo me è incredibile. Rimaniamo in attesa del preordine, per sapere quanto costerà, ma se girerà sui soliti 300, penso, per l'Europa. E niente, aspettiamo. Poi, novità per quanto riguarda i SH Freewards, se il sito decide di caricarsi, è stata annunciata, ovviamente, NAMI. Quindi continua la wave. Scusate l'interruzione, ragazzi, sono il Peppe del futuro, e come vedete vi parlo dallo studio che è in allestimento, quindi vi chiedo scusa. E purtroppo, OBS, il computer, la connessione, non so cosa sia successo, ma comunque sono completamente saltati due minuti di video. Vi è l'audio sminchiato, il video non si vede nulla, insomma, un casino per due minuti. Nel momento in cui sono entrato sul sito di Tamashinations, è saltato tutto. Quindi vi chiedo scusa, cerco di riassumervi in breve quello che dicevo in quei due minuti, ovvero che è stata annunciata la SH Freewards di NAMI, tratta da Live Action di One Piece, che va ad aggiungersi a quella di Luffy e di Zoro. Luffy che dovrebbe uscire adesso a fine gennaio, forse proprio oggi, ragazzi, il 20 gennaio, mentre Zoro, se non mi sbaglio, dovrebbe uscire a febbraio. Quindi NAMI si va ad aggiungere a questa wave, che probabilmente continuerà anche con gli altri personaggi del live action. Come al solito, c'è chi ha amato questo live action, chi l'ha odiato, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Poi andavo ad analizzare le altre uscite del sito, non so se in questo modo vedete bene, ma, diciamo, è uscita ieri, praticamente, ovviamente sono uscite queste due Figures Zero, sempre dedicate a One Piece, che troviamo anche sul Colosso dei Nerd, lo vedremo dopo nel video, ed ecco qui appunto il Luffy di SH Figures, insieme ad altre incredibili uscite. E nulla, quindi ragazzi, fondamentalmente era questo, chiedo scusa ancora per l'interruzione, torniamo al video. probabilmente ultimamente ci sono un po' di vi tardi, visti i problemi di attualità che tutti conosciamo, ma comunque dovrebbero arrivarvi nel giro di mese circa, più o meno. Poi, quindi andiamo avanti con le news, ovviamente da Il Colosso dei Nerd, che è sempre strapieno di nuovi arrivi, quindi cerchiamo di recuperare dagli ultimi. Innanzitutto è stato inserito Hot Toys, Loki, da Endgame, Loki che trovate sul canale, l'avete visto anche nella Top 5 della Marvel, quindi assicuro per la qualità della figure, e trovarla ad un prezzo così scontato, è una figata ragazzi, quindi approfittatene se non siete riusciti a recuperarlo all'uscita. Mads Go Toys, anche qui, questa fantastica riproduzione del corpo, di scala 1 a 12, scontata, e qui, l'inata che sto aspettando di preordinare, sono molto indeciso, quindi rinnovo, l'aiuto, aiutarmi a decidere cosa fare con questa innata. Abbiamo finalmente il preordine della DeLorean, della Hot Toys, tratto da Ritorno al Futuro 3, quindi il prezzo ufficiale, almeno per Il Colosso dei Nerd, che è uno dei più bassi che ho visto, comunque è 880. poi varie statue tratte da Dead Space e The Witcher, The Witcher in realtà è un action figure, anzi, entrambe action figure, scusate, non statue, questa per l'A3 Zero, che abbiamo visto fare dei bei capolavori, anche in passato, quindi tenetela d'occhio. Poi queste sono le Figures Zero di One Piece, che vi dicevo prima, questa fantastica riproduzione di Yellow Spank, che ha venduto già tantissimo, così come questa statua di Di Armando Maradona, in scala 1 a 10. Vi dico solo che già ha venduto un botto di copie, questo di Maradona, quindi quando comunque c'è qualcosa di Maradona, è giusto che sia così, che venda tantissimo, perché se lo merita. Poi riproduzione fantastica in scala 1 a 6 di Mel Gibson da We Were Soldiers, anche questo è un altro pezzo unico, quindi anche questo se siete fan, non lasciatelo sfuggire. La statua di Ace da One Piece, e quella che abbiamo visto poco fa sul sito di Tamashinations, e qui un Dice Holder per gli amati di Dungeons & Dragons, che secondo me è uno spettacolo. Ultimo annuncio, molto importante, soprattutto per i fan della saga, sappiamo tutti che sono tornati in volga personaggi degli anni 90, Power Rangers, ora sono esplosi nuovamente, e quale migliore occasione per recuperarli tutti, almeno questi della versione 0, insomma, che sono della 3-0, che vi dicevo appunto poco fa per The Witcher, 3-0 ha fatto un pack di tutti e cinque di Power Ranger, quindi il set completo, a 5,99. È un bel prezzo, però fate conto che con praticamente 120 euro a pezzo, avete una 1 a 6, fatta veramente bene, dei Power Ranger, quindi per chi di voi vuole o non vuole, cioè è fan della serie, non deve farsi scappare questa occasione. Andiamo magari a vederli un attimino, un po' più nel dettaglio, con qualche zoom, ed eccoli qui, tutte le loro posi iconiche, con ovviamente molti accessori, raga, io ero un fan, ma non penso che li recupererò, almeno non per il momento, e preferivo la prima versione, piuttosto che questa, quella un po' più, cioè la più tradizionale dei Power Ranger, raga, però sono comunque degli ottimi pezzi, belli belli da recuperare, ovviamente tessuto, per le dute, insomma, bellissimi pezzi. Bene ragazzi, quindi con i Power Ranger, ci salutiamo. Queste erano le news della settimana, quelle che io evitino per essere le più importanti, almeno per quanto riguarda, quello che più o meno è l'andamento del canale, quindi quello che c'è sul canale, Super per Barca Collectibles, fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, se c'è qualcos'altro appunto che avreste voluto, di cui avreste voluto che io parlassi, ditemi, ok? E sono molto curioso di sapere cosa volete fare con Black Manta, dello Toys, e mi raccomando, Rocket Toys ragazzi, Naruto, datemi una mano, ok? Detto questo, raga, con le news, sperando che esca qualche cosa di più corposo, qualche annuncio bello ciccione da parte di Hot Toys, ci vediamo la prossima settimana, e vi rinnovo il controllo appuntamento, martedì, con la Top 5 di Star Wars, se riesco a farlo uscire, speriamo di sì, è giovedì con il prossimo unboxing, e stavolta si tratta di Spider-Man, la sua black and gold suit. quindi raga, vi saluto come al solito, a un prossimo video, ciao raga, a presto!